Tre amici, la pesca ed una missione, sfatare il mito del buona pesca. Dirlo, porta davvero sfortuna? Gianfranco Monti, 54 anni, fiorentino, DJ e conduttore televisivo, tecnica di pesca preferita, la passata al barbo. Igli Vannucchi, 36 anni, pratese di origine, lucchese di adozione, calciatore professionista, tecnica preferita, spinning. Jonathan Paolicchi, 41 anni, versiliese, giornalista e produttore televisivo, tecnica preferita, spinning in mare ai grandi predatori. Riusciranno i nostri eroi a sfatare il mito? Quali rischi correranno? Quali avventure vivranno? Lo saprete solo se starete con noi su buonapesca.it